Musica 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 Ma no no! Voi lo vettero militare? No... Lo sapevo, una donna e mezza sega! Ma cosa si può dire? Ma non... Mi chiedo di insultare, Cioè, lei è il cimitero di Reuropia, con quelle misubole non conformi, è il metto Giato, un rivuoto antimina posforescende Giato, scarponcini gialli! Ma che sono? Probabilmente per contrastare un eventuale attacco cinese! Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Anzi, il minister di Viagra è dovuta una fantasia arrivata a cinque ore! La poveretta è venita sotto i colpi del mio fucile... NOOOOOO! Se lo vede. 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 La fa con noi. La prima parola è dell'uomo sulla luna. E tu chi cazzo sei? Sono le seconde. Questo razzo, lei è il primo uomo sulla luna. Quindi sono il quinto uomo sulla luna che butto dopo una donna. Ma ecco, cosa deve fare il caffè con questa? Lui lo faceva con le frasi famose dei film. Mi ricordo ancora, avevo 9 anni, grande lezione di vita. Tornò a casa, mi prese per i piedi, mi sollevò ed infilò la testa nel cesso. Continuando a domandarmi per chi la provo e a chi andava al resto della droga. Lui presentando, Polinesia, Mozambico, Mauricio. Quest'anno facciamo i nomadi. Bellaria, Rimini, riserva di Rimini. Bellaria, bellissimo. Mi ha fatto una lina, mi ha fatto questo così, no? Mi ha messo tutti i... Grazie a tutti. Grazie a tutti.